Buongiorno, siamo qui con il presidente della Lega Delegazione Lega Navale Portopalo di Menfi in questa giornata oggi di festa. Presidente, ha qualcosa da dire? C'è un mare bellissimo e pieno di tante vele, 30 iscritti alla Incom Sailing Cup, anzi 31, 2023. Sembrava non ci fosse vinto, invece vinto si sta alzando e allora buona vareggiata a tutti. Noi ci siamo con Giaimà, speriamo di classificarci almeno trentesimi e di non abbandonare prima il campo di regata, ma la camusa suggerisce il contrario. Qual è l'obiettivo di questa giornata? L'obiettivo di questa giornata è divertirci, stare insieme e portare quante più belle possibili a Portopalo di Menfi. Cosa vuole augurare a tutti quelli che parteciperanno oggi? Buon vento! Grazie! Ciao! Gianfra, e allora com'è questa quarta Incom Sailing Cup? Allora, stiamo partendo un po' in ritardo, però il vento si è alzato, stiamo spostando le boe e siamo fiduciosi. Sei contento che partecipano trenta barche? Felice! Questa manifestazione sta prendendo piede ogni anno di più. Speriamo che nelle prossime edizioni riusciremo a inserirlo come un evento di valenza regionale. Intanto c'è un partecipante da Genova, ottimo, grazie, un saluto, ciao, buon vento! Oggi siamo qui nelle sue brezza, ognuno ha il suo ruolo, sono già tutti partiti, ma noi siamo 22, noi partiamo dopo di tutti. Tanto arriveremo primi. Abbiamo Io Prodiere, stranamente, i ruoli sono stati sorteggiati. Abbiamo Ilaria Larranda, Gianfranco Gregorio Taylor e un grande timoniere che è Renzo Barbera, a motore. Da Giaima è tutto, siamo quasi pronti per partire, ciao! Ciao! Dottore, vi abbiamo dato acqua, ma... Se volete la birra, ve la possiamo pure passare. Grazie, dottore! Quando il vento arriva... A sinistra. A sinistra. Vai, 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 vai. La boa gialla, boa... La barca comitata dobbiamo vedere dov'è, credo sia quella.